Signor Wade, le immagini termiche mostrano due dozzine di nemici al terzo piano. Magari la deposito al secondo? Con la vecchiaia divento lento, Alfred. Perfino lei è troppo vecchio per morire giovane. Non che non ci abbia provato. Hai il potere di spazzare via l'intera razza umana. Se c'è una probabilità su cento che sia nostro nemico, la dobbiamo considerare un'assoluta certezza. La più grande sfida tra gladiatori nella storia del mondo? Dio contro uomo. Giorno contro notte. È psicopatico. Cinque sillabe valide per ogni pensiero inadatto a menti ristrette. Ne ho conosciute tante come lei. Non credo che abbia mai conosciuto una come me. La bugia più vecchia d'America. Il potere può essere innocente. Cesse di una Casse di un po' Da Casse di un po' Grazie a tutti.